C'è uno che va al mercato e compra un galletto fuori bellissimo, bianco, giallo, rosso, vero, con colori del mondo. Allora chiede, dice, ma che galletto è questo? È un galletto molto selezionato, ma che galletto è? Un galletto da monta. C'è proprio bisogno nel mio pollaio, ma è molto caro. Lei non deve considerare il prezzo, ma la qualità e il rapporto qualità prezzo. Lei vedrà che è a buon mercato. Vabbè, cosa costa? Mille euro. Mille euro? Fì, per un galletto? Lei è matto. Deve provarlo e vedrà che è eccezionale. Lo mette, lo prende e lo porta a casa. Fì, lo metterà nel pollaio, la mattina sta su, cerca il pollaio, il galletto non c'è. Fì, tutte le galline per terra con la lingua cuore. C'è. Eccezionale. Ma dove è andato? la tastabiera di cos'è? Fì, va dentro. Fì, ha tutti i disani per terra con il mio cuore. Eeeh, è incredibile. Ma non è male, non so perché la riva, fì, in fondo la riva c'è una macchia colorata per terra e un giro di avvoltori. Ah, il megaletto è morto, lo sapevo, è morto. lo cambierai con tutto il ben di Dio che c'è in questa fattoria, vi ho forse di beccare le morto. E comincia a correre verso il galletto. Il megaletto, il megaletto, mille euro, il megaletto. Arriva a venti metri del galletto. Il savami, il megaletto, povrante morte. Arriva a cinque metri del galletto. Ah, il megaletto, il megaletto. Sta sul galletto, fa... il megaletto. Ma che tia figa, cattiva.